Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Amore, 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 che hai fatto? Che paura, bucchile, mamma Amore, mi hai fatto prendere un colpo, c'ho la tachicardia, oddio No, non ti farò più, perché mi hai messo una uova? E la ti affanculo Viracca, viracca, vieni qua, vieni qua In questo modo, ho subito abusi, eccetera, eccetera Tu veramente mi fai sentire una regina, quindi Io, cioè, non c'ho dubbio, non c'ho dubbio Amore Così Poi, quello che pensa la gente, insomma, lascia un tempo e trovo Eh sì, non c'è che lo sa Ah, di qua Ah, di qua Ah, 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 ah E' pizzi Come state? Un po' di pallet, ce la metto Ah, ah, ah Lo voglio non clippato, mi piace Ah, ah, ah Amore, ma sei una cosa orredda Quindi se arrivano 20 sub, signori Mi truccherai live, ovviamente io mi sederò qua, eh E tu mi truccherai O qua, da qua No, no, mi sedo là io e ti trucco Ok Ma smetti di vedere che le fa le puzzette quando uno sta a mangiare E' la live, non sono io Ehi E' basta Ah, 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 ah No, lo vedi? Non sono io Ma scotta però, eh Ah 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 Viene pure a me Di farlo Ah, ah 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 Dai Ah Ah sei un grande maestro un cuore rosso e cuore rosso e cuore rosso non le rompere ma sei scemo guarda che ha rotto tutto quanto ha ridotto le cuffie che te sta bene ma stai a calcazza vai posti ok che devo fa? non lo so vai 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 vinto mario vedi come sono veloce maestro giochi a gta ma come cazzo fa a giocare a gta se sta a casa mia ok gta è in vita reale ragazzi allora se ti permetti uso questo trucco hai capito? allora non fare la scorsa mano non uso questo trucco hai capito? no si allora ramo guarda il telefono guarda il telefonino disattiva tutti i dispositivi slash me lega la persona slash me mette mano a culo slash me sussurra ciao ti amo io non ho parole io non posso dire che ho parole deve crescere ancora deve crescere sta crescendo sta crescendo quanti salumi ha già misero anche tu ha già esagerato ha già esagerato un po' guarda qua e quanti kg è sto nonnillo eh 2 kg sarà sto nonnillo vabbè ma non fa niente che è troppo ragazzi cioè comunque grazie per il bit bello alexa spegni tutte le luci alexa accende tutte le luci alexa accende tutte le luci santi cammello 100 sub se lo metti ah no al maestro regà non è non avete capito niente è quello clitorino si può dire che cos'è? ci posso descriverlo? o è bannabile? ma potresti dire eh non è quello tradizionale penetrante comunque volevo dirvi comunque vedo il basso che si suona cazzo basta è stronza lei a me dispiace Loredana senti che lecca culo è proprio lecca culo è proprio lecca culo eh ma cioè questo è proprio cioè ma proprio venduta subito regà eh niente ah questo qua ma rocco si fritti ma che ha fatto? ma lo vediamo sto video? ho fatto male a due donne perchè mia moglie è stata male no perchè sono un co*****o no un corpo scatto con me un pallone blu mamma mia tenga capa tenga guerra anche la puffata mamma mia sto casata scassa capa ti è venuto qua sotto mucca e tre sette e te manno purgatorio negra un baluto piazza e merda dove mettere più e dicere sti cosa? hai capito? eh? buonasera faccio tutto a posto ciao Franci 94 Ita Vittorio lo squala Moriello blodiablo igna ciao se stai scrivendo qualcosa di strano? ah no ma io posso fartolo anch'io fermo non è bannabile io ho fatto un cazzo bro è bannabile pronti pronti grazie grazie Che ridi? Non lo posso ringraziare C'è la febbre Stupido Porta rispetto che ti sfono Hai capito? Però tu a me lo puoi dire Hai capito? Però tu a me lo puoi dire E perché tu a me lo puoi dire? Perché sono donna Hai capito? Stupido donna capocciata Cretino Chiedi scusa? Scusa Perché ti piace che mi ha rubato? Sei un prevertito Io lo faccio così Ma ognuno lo fa a modo suo Alla fine è come se fosse un casatello stracciato Però è la stessa identica cosa Io metto ingredienti Lo metto là dentro Lievita e lo inforniamo stasera Cioè è la cosa più semplice Secondo me da fare Il casatello Ragazzi alla fine è un pane con i salumi Non è nulla di particolare Secondo me Ma sto scherzato Dai madonna mia Ma scherzo Dai Ma scherzo Amami per quello che sono Eh sì amore per forza Perché non ci sta Con una cosa di uscire Ti salterò come la mia regina Come una tua regina? Sì Ti rendo la donna più felice di questo mondo Tu sei stupido Amore io non posso cambiare Sono fatto così Nessuno mi potrà cambiare Ma amore ma chi ti ha detto niente? Cioè Ti stava a fare il film da solo Ma chi ti ha detto niente? Eh Io so peggio di te Eh Cos'è Grazie a tutti.